Il progetto è finanziato all'interno della misura 16.1 del PSR ed è un progetto di innovazione e trasferimento della ricerca. Coinvolge non solo la rete di imprese Basilicata in Guscio con i suoi agricoltori, ma tra enti di ricerca. Anche il CNR, l'Università degli Studi di Basilicata con il Dipartimento di Agraria e l'Università degli Studi di Salerno con il Dipartimento di Farmacia. Lo scopo del progetto è quello di approfondire lo studio di una cultura che è poco conosciuta in Basilicata, nonostante storicamente si ritrovino delle tracce un po' dappertutto, se pensiamo che nel nome di Avigliano c'è già il nocciolo, essendo avellana una varietà e anche all'interno del logo mi sembra che sia rappresentata una pianta di nocciolo. Quindi si farà questa ricerca e questa sperimentazione all'interno della quale si proveranno sugli impianti dei nostri agricoltori nuove colture, nuove cultivar e quelle che meglio si adattano alle condizioni pedoclimatiche delle varie zone della Basilicata in cui insistono i nostri areali di coltivazione. Un altro passaggio importante è quello dell'Università di Basilicata attraverso il professor Cosentino che si preoccuperà di sperimentare dei pollai mobili attraverso i quali gestire le infestanti. Quindi questi pollai saranno inseriti all'interno delle coltivazioni che sono dei sesti di impianto di 5 metri per 3, quindi c'è spazio per questo tipo di pollai e quindi si proverà a far gestire le infestanti in maniera il più naturale possibile perché proprio all'interno del nome del progetto Corilicultura Lucana Sostenibile c'è proprio l'esigenza della sostenibilità e non solo ma si cercherà anche di integrare il reddito attraverso la produzione di uova da parte di queste ovaiole. Sono due anni che stiamo fortemente lavorando sulla realizzazione di un quadro di contesto favorevole per lanciare una nuova cultura in Basilicata che è quella del nocciolo e più in generale ci stiamo interessati dalla frutta in guscio. Nel piano di sviluppo di Ferrero c'è un grande sforzo finalizzato alla realizzazione del piano Italia e la Basilicata con i suoi 1.500 ettari si candida ad essere una delle regioni di riferimento. Abbiamo lavorato molto sulla carta vocazionale e questo progetto di ricerca che viene finanziato dalla misura 16.1 è la testimonianza di un'attenzione che la Regione e il Dipartimento vuole riservare a questo comparto convinto che può essere una grande opportunità soprattutto per le aree interne.